Premio Culturale Internazionale Cartagine 2021, sezione Imprenditoria ed Economia a Paolo Crisafi, per i meriti acquisiti nel mondo dell'imprenditoria sostenibile. Il dottor Paolo Crisafi si è distinto per essere stato tra i fondatori della rappresentanza immobiliare in Italia. Si è fatto promotore della conoscenza e dell'applicazione dei Dieci Comandamenti Verdi Laudato Si, elaborati da Don Josh e condivisi da Remind Filiera Immobiliare, l'associazione che ha ideato e di cui è presidente, che raccoglie le principali realtà del Paese. Nella sua attività applica al mondo dell'immobiliare e delle infrastrutture le buone pratiche per lo sviluppo sostenibile e la messa in sicurezza dei territori e delle città, degli immobili e dei relativi impianti. Etica ed estetica, cultura e turismo, economia e resilienza sono temi portati avanti e diffusi sia personalmente sia con News Remind, di cui è presidente. È grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Attraverso la sua opera meritoria ha contribuito al processo di rafforzamento della sicurezza, del benessere e della cultura tra i popoli.